Segui La7 anche su Instagram, La7 ovunque con te. Come si è visto le inchieste sono andate avanti, alcune sono arrivate a compimento, altre meno, ma è stato un tema di campagna elettorale per tante volte. La vicenda Berlusconi mi pare che ormai anche dopo la morte del Presidente si possa valutare con maggiore serenità. Possiamo anche archiviarla. Tutti gli osservatori però mi consenta, indipendenti e serici dicono che quando ti partono dei processi il giorno dopo che entri in politica evidentemente quello ha inciso pesantemente sulla vicenda. In questa situazione la questione è un po' diversa, quindi negli Stati Uniti poi c'è tutto un meccanismo anche dell'opinione pubblica che è completamente diverso dal nostro. Quindi sì, si possono fare delle similitudini, ma insomma i casi direi che sono molto diversi. Infatti non a caso stavo chiedendo a Bertolotti se quella fosse l'accusa più grave perché invece per un americano sentir parlare di cospirazione e danni negli Stati Uniti d'America forse è più pesante rispetto al caso Stormy Daniels e dintorni. Vi devo dare conto anche del...